L'omaggio della nostra redazione ai dispersi le cui ricerche continuano nella zona del Monte Belino anche se vengono continuamente ostacolate dal maltempo e il caso per esempio di questi giorni che ha impedito il levarsi in volo degli elicotteri per arrivare in quota. Ricerche che comunque attualmente sono ancora in fase di coordinamento perché c'è una riunione in corso per stabilire il da farsi nei prossimi giorni. Ma perché il Belino? Perché proprio nel campo dove si coordinano le ricerche oggi è apparso lo striscione che vedete e che è dedicato ai due fidanzati due dei quattro dispersi sono Valeria e Gianmarco Degni e Valeria Mella di 26 e 25 anni stanno insieme da diversi anni e sono fra i quattro dispersi sul Monte Belino e per loro c'è lo striscione Buon San Valentino posto dagli amici della coppia scomparsi con loro dispersi sono Tonino Durante di 56 anni e Gian Mauro Frabotta di 31. C'è questo omaggio all'amore dei due fidanzati, uno striscione che è apparso anche in Avezzano e anche su Facebook condiviso in molte occasioni. Vedremo se nei prossimi giorni complice il miglioramento delle condizioni meteo potranno riprendere più agevolmente le ricerche che è stato sottolineato più volte dai soccorritori comunque non si fermeranno.